it's me mario benvenuti ragazzi mio canale sono super mario vj e oggi siamo qua su clash royale ragazzi con un chest opening a dir poco straordinario epico siamo qua con tre bauli magici e un baule d'oro ragazzi siamo qua vediamo un po siamo in arena 8 e chissà mai cosa potrà capitare cosa potrà succedere no una leggendaria la vogliamo una leggendaria visto che ne abbiamo due un'altra visto che poi arrivano quelle altre potete vedere quando lo shop ragazzi che ci sono le offerte speciali offerte speciali che questa sembra buona 100 mega 100 mega sgherri con 150 gemme pure questa qua ti danno un bel po raga 10 euro queste offerte speciali devo dire che svalgono la pena di essere acquistate intanto cominciamo subito cominciamo subito siamo a 2836 coppe ragazzi sono arrivato a 2889 coppe e quindi facciamo uno spacchettamento in questa arena 8 prima di arrivare nell'arena leggendaria dove ci saranno altri spacchettamenti questo è uno spacchettamento non jamming perché non ho mai gemmato ho trovato ho trovato le carte leggendarie nei bauli omaggio potete vedere qua ho trovato il boscaiolo raga il boscaiolo bella truppa e la principessa raga è la principessa che la sto usando prossimamente volevo portare un mazzo da battaglia con il boscaiolo ragazzi un deck col boscaiolo perché il boscaiolo secondo me è abbastanza forte abbastanza forte ma partiamo subito con questo cesto opening partiamo come successo che non devo vedere il cellulare aspettate devo vedere il cellulare ecco qua partiamo subito andiamo con la prima baule primo baule d'oro primo baule d'oro 165 di oro capanna dei barbari che sto usando però solo una solo una ti potevi impegnare un po di più e darmene una decina no e i scheletri fornace che non utilizziamo spiriti del ghiaccio che c'erano 1400 e passa e questo baule d'oro ha fatto cagare andiamo subito con questi tre bauli magici tre bauli magici neanche un super magico però i magici non si sa mai può succedere che può capitare anche quella la leggendaria e partiamo subito col primo eccolo qua raga eccolo qua sono citatissimo 606 606 buono barbari dici barbari che non uso la scarica che usiamo 11 scheletri 14 spiriti del fuoco e vai che lo bombarolo vai col bombarolo vai con la carta rara niente leggendaria raga niente leggendaria solo tre gole niente leggendaria in questo baule che è andato in questo primo baule è andato andiamo col secondo baule secondo baule oro 495 andiamo col lord di sgherri e vai così spiriti del ghiaccio mortaio goblin lancieri gigante royal 27 vabbè ad arrivare a mille ce n'è di strada mega sgherro mega sgherro 19 raga mega sgherro 19 prossimo prossimamente anche qua un video col mega sgherro un video col mega sgherro andiamo avanti strega strega per tre che si può migliorare si può migliorare ottimo ottimo andiamo con l'ultimo andiamo con l'ultimo spacchettamento spacchettamento di che l'ultima apertura di bauli mortaio spiriti del fuoco andiamo veloce capanna gablin e tanto non ci capita niente sgarri 8 fornace quindi niente leggendaria niente leggendaria tre bauli magici neanche una leggendaria oh sono in arena 8 che cazzo dammene una no questo è il mio deck che sto usando che sto usando raga 4,1 andiamo con la battaglia andiamo qua troviamo si freddi clan ok questo ce lo mette in culo raga si freddi clan vuol dire che ce l'ha grosso perché rocco rocco si freddi ce l'ha abbastanza grosso partiamo così con la principessa e partiamo così e facciamo cos'attac per quel cavolo di spiritello del ghiaccio e ci manda la palla infuocata che non va bene ecco lì bastardo muori esci fuori vai vai basta basta mi ci hai tolto un casino di roba chiama la campana dei barbari io la metto sempre qua raga io la metto sempre qua gioco così vediamo se non riusciamo a fare qualcosa per non far brutta figura questi mandiamoli fuori fuori ok perfetto così ecco qua attenzione quei sgherri ci mandiamo la principessa e di nuovo raga di nuovo col gigante royal dove l'hai presa la vita per questi giganti gigante che lo facciamo subito fuori non farci fuori la campana ok perfettamente perfetto bastardo bastardo raga la palla infuocata è un'ottima carta attenzione alla principessa attenzione la principessa vai così va bene così bene così attenzione la principessa ma andiamo facciamo fuori questi piccoli stronzi no 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 ce l'ha asciuttata raga ce l'ha asciuttata la principessa e abbiamo fatto un po di danno però non siamo come lui quindi attenzione 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 eccoli qua sempre quei cosi sgherri stronzi mandiamo il moschettiere per farli fuori che palle sta palla infuocata ma non abbiamo paura si gigante royal si si gigante royal che lo fa fuori raga lo fa fuori attenzione qua attenzione attenzione non dobbiamo andare alla presa 10 secondi e l'avversario lascia e l'avversario lascia e siamo imbattibili con questo deck raga siamo imbattibili eccolo qua finisce qua e che dire questo video finisce qua abbiamo vinto siamo a 2868 raga quando arrivo a 3000 coppe farò un video sulla rena leggendaria mi raccomando lasciate tanti like iscrivetevi al canale e ci vediamo con un prossimo video bella